il frigorifero e pagare le potezioni del lavariolo no, no un po' di rispetto per le signore dove stanno? le signore, le signore la signora, le signorine su, vado a mettere le scarpe ah, di che sto scazzo? è un reato vado subito a mettere le scarpe è un peccato, è un peccato dai! oh signore mio oh signore mio ah, che è? ah, ah 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 oddio oh signore mio, oh signore mio ma che fai? ti metti le scarpe ed entri in mutante entri in mutante? chi entri in mutante? tu, tu, stai in mutante senza mutante, ma che senza mutante? vedi fratello, noi uomini della chiesa l'odiamo sempre al signore no padre, quando c'è l'occasione c'è sempre il signore ah, padre, dici, padre, dici ehm, siediti siediti ti devo comporre? si, componiti, componiti eeeh ah, sempre la maniera su la pietra della paparazzola eccoci qua un po' di decenza ecco qua allora padre, sapete che è successo? che è successo? che io mi ho sognato cioè non è che mi ho sognato una ziggara una ziggara una ziggara e mi diceva oh signor Di Maio voi dovete morire voi dovete morire io stesso la paura forte ma sono poriacato hai capito il senso? perciò stavo scamazzato la sopra al divano si, si qua sentisse un sacco di aquilo ma chi è il cavolo? un sacco di aquilo che bello e buono ci dice l'olio l'olio santo l'olio santo mi è venuto come me io mi emoziono ancora l'olio è stato detto sono morto veramente e invece non sono morto non sei morto invece quello che deve morire quando fa queste cose hai portato l'olio no, lei ha portato l'olio ha portato pure lei salsicce bella le salsicce bella oh signore oh signore oh signore perché hai portato l'olio? ma le salsicce le salsicce le salsicce di venerdì come è la richiesta le salsicce si può mangiare capito? ma no di venerdì non si mangia la carne ma chiudia ieri la carne ma la vende? no perché è peccato peccato è peccato quando hai cattato la carne la carne non è buona è peccato che sta vendendo un ucchino no 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 è un peccato è un peccato la carne la carne bisogna rispettare il signore oh signore oh signore chiamatelo signore vuoi finire i soldi signore quindi non si deve mangiare la carne no no ah signore preghiamo chi ci ha dato la luce no ringraziamo a chi ci fava la bulletta ma che dici no no ma c'è la malattia tutti c'è la malattia sì però io voglio dire una cosa se ho un reato grave questo fatto che noi ci siamo mangiati un po' di carne va pure perdonato perché padre mi dovete credere se vi dico una bugia a darci un capo no noi siamo qui alla casa mia è quasi una chiesa che mangiamo pane e onestà onestà e pane pane e onestà e le medici mangiamo solo l'onestà perché il pane si mangia chissà quando c'è la macchina se c'è la macchina se c'è la macchina se c'è la macchina se c'è la macchina ma la macchina è andata se c'è la macchina se c'è la macchina padre però che vi volevo dire noi qualche peccatuccio tipo che sace che uno si mangia un po' di carne di carne questo che guarda il film una nuova io il che fa il cuore una moglie io però diciamo che noi siamo un clan di persone sante noi siamo una famiglia di persone per bene pensate padre che qua è tornata alla sera se c'è la preghiera bravo questa non è una casa questa è una chiesa padre mi dovete credere vieni dalla casa qui qua non succede mai niente non succede mai niente sto fatendo oh signore che c'è? che cosa sono questi spari? eh padre questi non sono spari diciamo questi botti che avete sentito troppo impressionanti la nostra è una casa sana una casa di santa botti di pistole fucile e mai niente sapete che cos'è? sarà una festa patronale arrumata a queste piazze fanno sempre le feste se non mi sbaglio è Sant'Anna non è Sant'Anna se c'è Sant'Anna no 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 non è Sant'Anna non è Sant'Anna non è Sant'Anna qui c'è un po'